Il cittadino di Taranto non chiede chissà che cosa, chiede almeno un minimo, ma dico un minimo di vivibilità urbana, un minimo di servizi, l'igiene, la pulizia di strade e marciapiedi. Noi paghiamo una taria altissima tra le più alte d'Italia, ora ci sarà un rincaro del 50% e come il caso in oggetto di cui vi sto per parlare, il cittadino è disperato, non sa cosa dire più e cosa fare. Mi trovo al quartiere Salinella, a Taranto, via Lago di Scanno e guardate, proprio camminando, facendo altri servizi, un cittadino mi ha fermato e mi dice, dottor Abbate veda che qui dal gennaio 2013, quindi stiamo parlando di 13 mesi fa, un anno e un mese, qui i mezzi della nettezza urbana, i mezzi dell'AMIU, o meglio gli operatori dell'AMIU, gli operatori dell'AMIU non passano nel modo più assoluto. Quindi si dà una pulita con le varie macchine, le spazzolatrici, le chiamo così impropriamente, però non si va a pulire appunto tra il marciapiede e il manto stradale, per cui vedete qui che stratificazione si è creata, guardate qui, gennaio 2013, ma potremmo proseguire, facciamo vedere proprio tutto il percorso del porcile, si è proprio stratificato, vedete, se io cerco di scrostare col piede, vedete, ho difficoltà, guardate, non è la singola carta che è caduta, uno può dire l'incivile ha buttato la carta certamente, ma nulla, cioè è diventato un tutt'uno, un unicum, per cui io guardate, devo proprio stricare, passatemi questa espressione, e questo ci fa capire proprio da quanto tempo i rifiuti hanno fatto corpo unico, ma potremmo proseguire sino ad arrivare al prosieguo di Corso Italia. Vedete anche qui, parliamo di gennaio 2013, abbiamo festeggiato un anno e un mese, potremmo andare avanti all'infinito, ma possiamo anche spostarci un momentino, stiamo facendo tutto live, attraversiamo la strada, due metri, e guardate qui, altro porcile che si è stratificato, ora mi si dirà, certamente ci sono gli incivili che buttano le carte, è vero, però scusatemi, al di là degli incivili che vanno sanzionati duramente, qui c'è una situazione incredibile, guardate, qui non si pulisce da oltre un anno, qui ci sono ragioni proprio di igiene, ragioni di sicurezza dal punto di vista proprio igienico, sanitario, guardate qui, ma qui è impressionante, guardate, rifiuti stratificati da un anno e un mese, da 13 mesi, scusatemi, penso che dopo un anno in cui gli operatori di Chima, Ambiente Amiu non si sono affatto visti, ditemi voi se è normale, ma questi sono cittadini di Taranto, pagano, pagano la Tari, hanno diritto a dei servizi o non lo so, sono cittadini di serie D e EF, non lo so, Presidente Mancarelli, Presidente Mancarelli, lei parla, 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 dice che sta risanando le casse dell'Amio, non lo so se le sta risanando o meno, sta di fatto però che il porcile è sotto gli occhi di tutti, il cittadino parla con i dati di fatto e dice io pago la Tari, pago un botto, ora aumenterà anche per avere in cambio quali servizi, il porcile, avere l'assenza dell'Amio da oltre un anno? Le immagini parlano chiaro, guardate, e vi faccio vedere di nuovo quello che ho fatto, guardate, se io mi sto sporcando terribilmente le scarpe, ma guardate, se io vado a spingere col piede, qui esce di tutto di più, escono quasi i reperti archeologici, datati almeno gennaio 2013, guardate, è normale tutto questo? Melucci, Mancarelli, voi avete ridotto Taranto ad una città del terzo mondo, perché solo nel terzo mondo si assiste a questi scempi, vergognatevi e sparite da Taranto, andatevene, perché più state e più fate danni.